Arroccato nella foresta nera, Vorador poteva disporre di un regno tutto suo, decadente e depravato, ma ogni cosa era immobile. Speravo di non essere arrivato troppo tardi. E così il nostro piccolo infelice Salvatore è tornato. Sei qui per entrare nell'ultima patetica battaglia della razza vampira? Mi domando in quali ranghi? Non sono qui per combatterti, Vorador. Tu non sai perché sei qui. So questo, che tu sei l'autore del mio destino e come tale solo tu lo puoi riscrivere. Mi stai dando troppa importanza. Tu hai forgiato la mia etitrice, ho le prove. Sono il suo creatore, sì. Allora ne conosci lo scopo. No, solo quei brandelli di profezia che i miei signori mi hanno rivelato. E questi brandelli spiegano perché tu dovevi forgiare un'arma che avrebbe imprigionato il tuo Salvatore? Ah, bene. Sembra che abbiamo la risposta. Hai scelto la tua strada. Io non ho scelto nulla. Sono stato ingannato a ogni passo. Tu sembri sapere chi sono. Dimmelo. Una volta lo credevo anch'io. Ma ora tutte le profezie sono crollate. I pilastri sono corrotti. Sono l'ultimo della mia specie. E quando i cacciatori di Mobius mi troveranno, ogni sforzo sarà stato vano. Hai dimenticato Cain. Ah, certo. Cain. Forse regge un fardello più pesante di quanto non creda. Non ti posso aiutare. Neppure volendo. Io ho creato la mietitrice, ma solo per istanza del mio sire, Janos Hodron. Quale stregoneria lui e gli altri abbiano poi usato sulla spada, lo ignoro. Janos aveva cercato di darmi la mietitrice prima di morire. Aveva detto che era stata forgiata per me. Ma cosa intendeva? Come arma o come prigione? Forse dovresti chiederlo a lui. Janos è qui. Per così dire. Il più grande di tutti noi. Il capostipite della nostra razza. I Sarafan gli strapparono il cuore da vivo cinque secoli fa. Ma non c'è traccia di decomposizione. Com'è possibile, dopo tutti questi anni? In qualche modo, il cuore pulsa ancora. Finché lo farà, il corpo resterà intatto. Se fosse possibile recuperarlo, forse potremmo resuscitare Janos. Ma voi non ci avete provato in tutti questi anni? Più di una volta. Ma i nostri nemici hanno nascosto il cuore fin troppo bene. È stato portato come trofeo alla cattedrale di Avernus secoli fa, dove venne chiamato Cuore delle Tenebre. Convinti che racchiudesse l'essenza del nostro dono oscuro, l'hanno nascosto per evitare che cadesse nelle mani sbagliate. Le nostre. Redimiti, potresti essere la nostra unica speranza. Forse tu solo puoi trovare il cuore, se mai sarà possibile. E se Janos dovesse tornare in vita, egli avrà tutte le risposte che cerchi. Questa chiave ti aprirà la strada verso Avernus. Ma attento! Nella cattedrale agiscono forze arcane. Dovrai stare in guardia. Avernus è in fiamme. Con essa, le nostre speranze svaniscono. Come riuscirò a trovare il cuore in quel caos? Devi agire rapidamente. Ma sta attento. Laggiù risiede un male antico su cui la nostra specie tace da lungo tempo. Senza dubbio questa è la fonte della corruzione che infetta il cerchio. Se vuoi riuscire, dovrai resistere alla sua influenza. Grazie! Grazie!